Buongiorno a tutti ragazzi, sono Matteo Paganini, benvenuti a questo appuntamento con l'analisi che dedichiamo all'apertura europea. Vi chiedo scusa per la giornata di ieri, ma purtroppo eravamo in borsa, oggi ho rinunciato ad andarci, ho mandato Davide, però ieri c'erano degli evidenti problemi di connessione, continuava a saltare l'audio, a un certo punto ho dovuto per forza di cose interrompere la trasmissione e vi chiedo scusa per questo, ma non avevo alternative, era un qualcosa di tecnologico che non dipendeva da me, ero ospite a uno stand perché mi hanno chiesto se potevo fargli un intervento, per cui qualcosa di non gestibile, purtroppo è andata così, capita, oggi ho deciso di stare proprio qui al desk per essere presente con voi e fare un webinar tranquillo per andare a chiudere questa settimana, che comunque vede i mercati senza dei dati macroeconomici particolari in pubblicazione, ma mercati abbastanza tecnici. Se partiamo proprio dall'Euro, vediamo come ieri abbia tentato in mattinata, poi non ci siamo più sentiti perché abbiamo dovuto chiudere il collegamento, ha tentato ieri la tenuta delle resistenze, siamo saliti all'interno di un'area che comunque consideravamo valida per valutare delle eventuali vendite, vedete come i nostri ragionamenti sui punti statici per il momento in questi anni abbiano sempre portato a delle buone intuizioni, quindi senza inventarci nulla abbiamo individuato in 26,80 una buona area di tenuta. Questa mattina ci troviamo nei pressi della media mobile a 21 con uno stocastico che sta girando bene a ribasso insieme ai prezzi, se guardiamo anche un grafico a 4 ore, siamo impostati in potenziale discesa per quanto riguarda l'Euro dopo questo piccolo restringimento di volatilità, credo che possa esserci la possibilità di valutare delle vendite per tentativi di raggiungimento dapprima dei livelli di minimo che iniziano a passare intorno a 26,25, nel momento in cui dovessimo eventualmente arrivare sulla zona di questi minimi con partenza a 26,25 e estensioni fino a 26,10, con uno stocastico orario che si mantiene lontano dalla zona di ipervenduto potremmo anche ipotizzare dei tentativi di accelerazione verso un'area che inizia a passare per 25,80, attenzione che se il mercato dovesse ripiegare a rialzo io credo che possa esserci la possibilità di assistere a delle ripartenze nel momento in cui dovessimo superare l'area di 1,27,15, stiamo attenti perché tutta questa è un'area all'interno della quale il mercato potrebbe in qualche modo comunque fermarsi se dovessimo vedere la visita di area 26,3,4 e 27 diventa una buona zona di resistenza sulla quale continuare a valutare delle vendite di Euro sopra l'area di 27,15 possono esserci dei tentativi di ripartenza che potrebbero diventare definitivi nel momento in cui il mercato dovesse superare l'area di 27,35 a rialzo, buona la situazione tecnica sul dollaro Yen che dopo la correzione che ha tentato di mettere in piedi a partire da ieri sera ci siamo fermati sopra l'area di 107,80, siamo proprio nei pressi della media mobile tra 107,80 e 107,60 lo scrivevamo anche questa mattina, passano tutti i punti di supporto sui quali eventualmente valutare degli acquisti di dollaro, dollaro che è già partito a rialzo, stiamo attenti perché nel momento in cui dovessimo assistere a borse che tentano di girare a rialzo bene come sta succedendo sui futures sul Nikkei, vedete come il dollaro Yen sia ben correlato con il Nikkei, se dovessero esserci delle rotture verso l'alto sia sul Nikkei che sui futures americani che potrebbero tirarsi dietro le borse europee, credo che il dollaro Yen possa tentare delle estensioni a rialzo, se andiamo a prendere anche un grafico un po' più ampio dal punto di vista di time frame di analisi, quindi prendiamo un 4 ore, vediamo come ci troviamo all'interno di un bel canale rialzista, se andiamo a traslare questa linea di trend sui punti di massimo, vediamo che per il momento siamo arrivati sulla parte alta di questo canale, il mercato ha tentato degli swing, ora sta provando a ripartire, le medie mobili stanno tentando di incrociare a rialzo, fino a quando non ci saranno segnali di divergenza o su un 4 ore o sull'orario il mercato rimane impostato a rialzo secondo il mio parere, ora vediamo se riusciremo a tornare in area 108,35, il mercato non è riuscito questa mattina a scendere all'interno di tutta la zona di resistenza e è andato a ripartire, i primi obiettivi sarebbero stati in area 108,10 guardando proprio gli ultimi swing di prezzo, dopodiché abbiamo un 108,30 e un 108,50, un 108,50 che se andiamo a vedere i punti statici precedenti potrebbe essere raggiunto ed eventualmente anche superato con un 108,75 che diventa un livello un po' più significativo dal punto di vista tecnico perché è stato sentito più volte dai prezzi di mercato, ci riferiamo a tutta questa zona di congestione che potrebbe in qualche modo portare a delle buone estensioni in caso di rotture rialziste di breve periodo sulle borse, dollari che potrebbero essere comprati anche contro la sterlina, siamo in una situazione tecnica simile a quella che abbiamo visto sull'eurodollaro, il mercato ha strappato a ribasso, ha iniziato a sentire la media mobile, attualmente ci troviamo sotto punti di resistenza sia statici che dinamici, abbiamo tutta l'area che passa qui tra 1,60 e 50 e 1,60 e tre quarti che è un'area buona sulla quale eventualmente valutare delle vendite di sterlina, vediamo ora se il mercato andrà a visitarla oppure se scappa direttamente a ribasso, se scappa direttamente a ribasso attenzione perché nel momento in cui dovessimo arrivare in zona 1,60 e 10 che è il primo livello di target che stiamo seguendo in caso di ribassi, una rottura di questo livello, un avvicinamento a questo livello con uno stocastico orario lontano dalla zona di impervenduto potrebbe farci pensare a tentativi di accelerazione a ribasso dove gli ultimi punti di minimo che sono stati formati dai prezzi si trovano in area 59,90, crediamo possa esserci comunque la forza di tentare delle estensioni anche più importanti, per cui l'idea è quella di seguire la sterlina con un'idea in testa, scusatemi per questa ripetizione, che vede la possibilità di mantenere perlomeno una parte di posizione aperta se il mercato dovesse raggiungere questi punti di minimo, per cui si può eventualmente andare a effettuare delle operazioni abbastanza veloci tra 60 e 10, 59 e 95, sono 15 punti, quindi è poca roba per quanto riguarda un time frame orario, ma può essere il modo per mettere il piede dentro l'operazione nel momento in cui dovesse partire il mercato a ribasso senza visitare bene le resistenze, le abbiamo sfiorate proprio questa mattina, i livelli di volatilità sono abbastanza buoni, sono inferiori a ieri, ieri eravamo oltre il 70% sul cable, adesso abbiamo una volatilità stimata pari al 68% ma comunque rimane sostenuta, quindi potrebbe esserci ed esistere la possibilità di tentare di rimanere sul mercato, nel mercato per delle estensioni più importanti anche sotto l'area di 59 e 3 quarti, se andiamo a prendere un time frame più lungo, un grafico a 4 ore, abbiamo una conferma di come siano intervenute le resistenze sia statiche che dinamiche su questa sporca, sporchissima direi, anzi divergenza rialzista, per cui ci viene confermato il quadro tecnico che abbiamo visto su un time frame orario. Guardiamo l'Australiano per dovere di cronaca ma ci fermiamo, è tutta settimana che facciamo un copy and colla della nostra analisi del mattino, guardando un grafico a 4 ore capite benissimo il perché, siamo di fronte a una situazione tecnica che tendenzialmente non permette nessun tipo di operatività per quanto riguarda il nostro metodo, c'è la possibilità come dico sempre di scendere su time frame più piccoli per curare se eventualmente vanno a crearsi dei punti di swing, delle situazioni tecniche, dei pattern che possono essere sfruttati, ma come vedete non è questo il caso, per cui l'Australiano lo lasciamo in stand by, aspettiamo l'avvicinamento ai punti di confine di questo range e poi valuteremo che cosa fare, chiaro è che il mercato può partire da una parte e dall'altra, attualmente per come si sta distribuendo questo movimento potrebbe veramente esserci un 50-50 di probabilità di assistere a partenze a rialzo o ribasso, tecnicamente siamo impostati più verso ribassi che verso rialzi, ma il fatto che questo triangolone chiamiamolo così, si sia sviluppato per un orizzonte temporale che tendenzialmente se prendiamo la lunghezza di questo rettangolo e l'andiamo a traslare da dove è partita la congestione, vedete che a livello di tempo siamo esattamente pari a tutto il trend discendente che c'è stato, quindi è un triangolo che non fa senso tecnicamente parlando dal punto di vista delle figure di continuazione. Andiamo a vedere l'oro, perché l'oro si sta impostando veramente molto bene tecnicamente, siamo arrivati proprio intanto che parlavamo, credo, fatemi vedere dei grafici più piccoli a 5 minuti, eh sì, da poco tempo fa, su livelli di resistenza, livelli di resistenza che potrebbero intervenire bene e mantenere i prezzi abbastanza sotto pressione, ieri purtroppo non abbiamo fatto in tempo a terminare la nostra trasmissione, ma stavamo ragionando sulla possibilità di assistere a delle accelerazioni verso l'area di 1.235, un'area che è stata superata molto bene, i prezzi hanno tentato delle riprese che questa notte avrebbero potuto fornire delle possibilità operative, ma io personalmente non ero sul mercato a quell'ora, quindi non le ho viste, attualmente siamo ripartiti doppio massimo piccolino nei pressi della media mobile a 21 periodi che per il momento sta intervenendo insieme ai punti statici precedenti. Attenzione perché i punti ci sono, i livelli sono buoni, ma bisogna avere un po' di tolleranza e per tolleranza intendo anche un 3 o 4 dollari di tolleranza per evitare di essere buttati fuori dal mercato, nel momento in cui dovessimo ripartire sopra l'area di 236,30, 236,50 potrebbe esserci la possibilità di ripartire, altrimenti rimaniamo con un oro che tendenzialmente potrebbe essere impostato a ribasso, un ribasso che se andiamo a valutare potenziali figure di continuazione che possono in qualche modo portare ad accelerazioni ribassiste, abbiamo un'altezza di questa congestione che può essere vista come una figura a bandiera o come una figura a triangolo che tendenzialmente è simile, se la proiettiamo su un punto di rottura vedete che ci restituisce qualcosa che non arriva neanche ai minimi precedenti, ma che fa senso dal punto di vista tecnico, se andiamo a prendere un time frame un po' più lungo e guardiamo un grafico a 4 ore, per il momento siamo di fronte a un mercato che per il nostro metodo non dà nessun tipo di suggerimento, quello che potremmo seguire in prospettiva è un'eventuale rottura ribassista e una formazione di minimi inferiori a quelli che sono stati formati proprio durante la giornata di ieri, se questo fosse il caso possiamo seguire la possibilità di divergenze eventualmente rialziste sui time frame a 4 ore, se andiamo a prendere le borse adesso, partiamo dal DAX dove ieri pensavamo potessero esserci dei tentativi di estensione verso l'area che passava intorno a 9.120-9.130, siamo riusciti a salire ma ci siamo fermati prima di quei livelli di target, stessa cosa è successa sul Fuzzimib che vedremo tra poco. Adesso il DAX sta andando in correzione, se andiamo a prendere la parte bassa di questo potenziale canale vediamo che i prezzi hanno perso un po' di momentum, non sono più riusciti ad arrivare verso questa parte alta che potremmo seguire tecnicamente parlando, ma dal punto di vista di rispetto di livelli tecnici statici ci siamo anche molto bene, abbiamo minimi che poi hanno fatto la resistenza che sono stati sentiti, abbiamo prezzi attualmente che se estendiamo questa linea iniziano a appoggiarsi intorno a questi livelli. Uno stocastico è bello carico adesso quindi potrebbe suggerire all'interno di questa fase laterale non pulitissima dal punto di vista del tocco di livelli dinamici ma che comunque è una fase laterale abbastanza ordinata, lo stocastico del genere potrebbe suggerire dei tentativi di approfondimento ribassista da parte dei prezzi, prezzi che però vedete iniziano a trovare dei punti di supporto statici, dinamici e dati anche dall'area di media mobile abbastanza interessanti. Diventa più prudente un approccio di questo tipo secondo il mio parere, quello di aspettare eventuali sfoghi del mercato a ribasso, se dovessimo vedere prezzi che si sviluppano tra l'area di 8860 e 8920 l'idea è quella di comprare il DAX, di pensare ad acquisti di DAX, se il mercato dovesse sentire i primi supporti e ripartire sarebbe una cosa ancora più bella dal punto di vista tecnico e si potrebbe pensare di lavorare in rottura a rialzo sopra l'area di 9.025 per estensioni che potrebbero puntare ben al di sopra dei punti di massimo precedenti che sono quelli che sono stati toccati ieri e tentare dei raggiungimenti delle zone che passano intorno a 9.130. 9.130 lo dicevamo prima, zona di resistenza o meglio di target che avrebbe potuto essere raggiunta ieri, siamo andati nella direzione che ci aspettavamo ma non è stato raggiunto questo livello, stessa cosa è successo sul Fuzzi che è salito bene, è arrivato fino a 500, noi credevamo potesse tentare anche delle estensioni in area 650-700 su questi ultimi punti di swing del mercato, cosa che non è avvenuta ma poco male, il mercato comunque è riuscito a rimanere correlato con il DAX, attualmente anche le medie hanno incrociato a rialzo, siamo in attesa come sull'indice tedesco di eventuali storni per andare a migliorare sia rapporti di rischio rendimento sia livelli di ingresso e qui abbiamo dei prezzi che passano però troppo lontano dai livelli attuali, per cui diventa una situazione di attesa che a mio parere deve essere iniziata a, che a mio parere occorre iniziare a valutare nel momento in cui i prezzi dovessero tentare degli storni che si muovono nei dintorni di 150-200 punti, per cui lasciare sfogare il mercato se dovesse iniziare a scendere in area 200, allora iniziamo a valutare potenziali acquisti del Fuzzi perché attualmente parlando sui prezzi di adesso non avremmo rapporti di rischio rendimento buoni, per cui dobbiamo per forza di cose attendere. Andiamo a vedere anche l'S&P che questo pomeriggio seguiremo in maniera attenta perché voglio capire se in chiusura di settimana riusciamo ad avere questi strappi verso l'alto, guardando un grafico a 4 ore il mercato ha tentato delle correzioni ma non siamo mai scesi sotto i punti di supporto e i primi punti più importanti passano in area 1925, lo vedete in maniera abbastanza chiara guardando proprio i punti di minimo che sono stati toccati dai prezzi e tutte le ultime congestioni, per cui l'idea rimane tendenzialmente rialzista nel breve periodo, se guardiamo un grafico orario siamo in una situazione simile dove ci sono stati questi tentativi di ripartenza a ribasso dopo che le figure di continuazione non hanno portato a rotture subito rialziste, cosa che tendenzialmente mi aspettavo, ma vedete come tecnicamente ci stia una rottura a ribasso di queste congestioni come spesso avviene, un po' come stiamo ragionando sull'australiano a 4 ore anche se il range è molto più ampio rispetto a questo sull'S&P, però i punti statici sono intervenuti, il mercato ha provato a ripartire, ha tentato proprio durante la giornata di ieri dalle rotture di 1950, rotture che aspettavamo e che pensavamo potessero trainare gli indici europei a rialzo, rotture che non si sono rese definitive e che quindi hanno impedito il raggiungimento dei punti di target che abbiamo visto prima, attualmente siamo in una fase di accumulazione ancora, stiamo a seguire eventuali ripartenze, non lo copreremo se non lo vediamo qua sotto, allora sì che va a migliorarsi il rapporto tra rischio e rendimento, oppure in rottura a rialzo dell'area di 1950 che operativamente diventa però difficile da cogliere perché sopra un 1950 abbiamo avuto un mercato che comunque ha congestionato per diverso tempo, per diverse ore a partire dal pomeriggio di ieri, il che significa che non sono stati soltanto degli spike di eccesso di movimento, ma sono prezzi che sono stati scambiati, per cui entrare subito in rottura del 1950 potrebbe essere una strategia troppo aggressiva, ma che comunque non mi dispiacerebbe, però deve essere riservata a coloro i quali i trader che hanno più propensione al rischio rispetto agli altri, altrimenti un 5-6 dollari di tolleranza, aspettare che si passi l'area di 1955-1956 potrebbe essere una buona idea. Bene dai, direi che ci siamo, intanto l'Euro sta continuando a scendere, vediamo, dollaro yen siamo ancora lì, non ci sono aggiornati, ah il franco, attenzione ragazzi all'Euro franco, perché l'Euro franco ieri avete visto che in mattinata sul tentativo di rottura ribassista dell'Euro è sceso in maniera interessante, siamo arrivati nuovamente a 1,2050, parlando con i desk di Londra ci sono dei bid a 1,2050 abbastanza grossi, chiaramente non si parla di official names, ma si immagina che sia l'S&B, ho avuto delle conferme purtroppo che l'S&B quando è arrivata a comprare, ha comprato ancora direttamente l'Euro franco, per cui non sta agendo a livello di acquisto di dollaro franco nel momento in cui l'Euro dollaro sta scendendo, sarebbe meglio ancora tentare di acquistare il dollaro franco nel momento in cui l'Euro dollaro sta salendo, ma diciamo che queste occasioni si sono un attimino ridimensionate ora che dopo i mercati estivi sono tornati i mercati con liquidità canonica, che significa che servono molti più soldi investiti, molti più franchi venduti contro dollaro rispetto a franchi venduti contro l'Euro per muovere il prezzo del dollaro franco, perché essendo più liquido si muove di meno. Attenzione perché qui siamo sotto pressione dal punto di vista tecnico, attualmente abbiamo tentato delle operazioni nel passato quando si andavano a impostare veramente bene le medie e tutte le cose che andiamo a seguire, ma siamo così vicini a 1,20 e 50 che lo guardiamo e personalmente non ci vado ad operare e siamo in una situazione abbastanza delicata da seguire, soprattutto per chi ha delle posizioni sull'Euro franco, non escludiamo dei tentativi di avvicinamento 1,20 e 50 e lì sapremo se l'SMB va a intervenire o se lo lascerà andare, chiaro è che prima di lasciarlo andare qualche intervento lo metterà in campo. Va bene dai, direi che ci siamo, io vi ringrazio per l'attenzione, chiedo scusa ancora per l'inconveniente di ieri, me lo perdonerete spero, da Matteo Paganini è tutto, un buon weekend, buon trading e ora ci fermiamo con i trader di FXCM per vedere le vostre osservazioni. Ciao a tutti ragazzi!